buon pomeriggio qua dall'area portuale di genova san piazzarena come puoi vedere lo stato delle infrastrutture non è dei migliori insomma come vedere il porto qua non è assolutamente tenuto bene ci sarebbero da fare delle opere di ristrutturazione si potrebbero recuperare degli spazi la in fondo puoi vedere la lanterna di genova sullo sfondo come puoi vedere insomma dal modo con cui è tenuto il porto puoi capire come se la passa ultimamente non solo la città che è veramente amministrata male questa è la situazione qua dal porto di genova san piazzarena dove regna l'abbandono e il il mal il malfunzionamento di quasi tutto anche lo stato diciamo delle infrastrutture ma sopra come puoi vedere decisamente precario purtroppo questa è la dietro c'è la fiumara che sta ricostruita un bel po di anni fa recuperando delle aree qua nel retroporto di san piazzarena chissà se che questa zona un giorno verrà riqualificata recuperata per il momento la situazione è questa buon pomeriggio dal porto di genova san piazzarena chissà se che questa zona un giorno verrà riqualificata per i genova san piazzarena chissà se che questa zona un giorno verrà riqualificata per i genova san piazzarena chissà se che questa zona un giorno verrà riqualificata per i genova san piazzarena